Questo terremoto ha un po' scrollato non solo le nostre abitazioni purtroppo, ma anche un po' gli animi. Ci siamo un po' concentrati e fortunatamente in un afflato unanime, in un'unione che si è sempre più rimarcata e che quindi hanno visto i nostri territori protagonisti con un enorme, sono stati premiati in questo senso, con un enorme afflusso di persone che ci vengono a trovare. Io l'avevo sempre ripetuto fin dall'inizio che il modo migliore per far vivere i nostri territori è in primis ricostruire velocemente i nostri abitati, ma anche non dimenticare il nostro territorio e quindi viverlo. Quindi un appello che c'è sempre stato all'esterno affinché le persone non avessero paura di venire a trovarci e di godere delle nostre bellezze naturalistiche gastronomiche e culturali per quel che possiamo offrire purtroppo perché, lo sappiamo bene, molti nostri luoghi non sono tuttora agibili. Però quello che abbiamo dobbiamo metterlo in gioco e quest'estate veramente tutte le iniziative che abbiamo cercato di organizzare con la Prologo, con le varie associazioni del territorio hanno avuto un notevole successo, dalla Sagra della Vernaccia al Cinema all'Aperto, ai concerti che abbiamo organizzato insieme all'Orchestra Filamorica Macchiciana, ai Cinque Comuni. Devo dire che qualsiasi cosa è stata veramente apprezzata, abbiamo potuto vivere il nostro territorio ancora una volta e sempre di più. Quindi è un auspicio questo che ci fa ben sperare per il futuro, non solo a noi ma anche ai Comuni limitrofi. Ecco, iniziative come oggi.